Bene, andiamo a leggere un'altra domanda su Instagram, vediamo di che cosa parleremo. Questa ragazza dice Ciao, spero tu possa aiutarmi a capire cosa devo fare. Ti spiego la situazione. Ho conosciuto una persona che mi piacera tantissimo, ma inizialmente pensavo non fosse corrisposto. Ok? Dopo qualche giorno mi ha cercata, dicendomi di essere in procinto e lasciare la sua ragazza. Da quel momento ho cercato di stare il più possibile sulle mie, perché non volevo creare problemi, ma purtroppo mi ci sono legata e non poco. Dice questa ragazza. C'è stato un incontro con un bacio dato a lui. Da quel momento ha deciso di iniziare a conoscermi lasciando le spalle da sua ragazza. Stava andando tutto benissimo fin quando ho sentito la necessità di dirgli che un suo amico stretto aveva provato a baciarmi prima di conoscere lui. A cosa serve dire questa cosa? Perché era un suo amico stretto? Ok. Ma comunque, cioè lui aveva un'altra ragazza, quindi che cazzo ne frega a te. E purtroppo dice, l'ha presa molto male, ha deciso di chiudere la conoscenza e mi ha offerto un'amicizia. Bene, questo mi sembra una persona che comunque ha ritrattato un rapporto nei tuoi confronti. Quindi l'ha ritrattato forse per un motivo d'orgoglio, forse perché ti ha scambiato con una poco di buono, quando in realtà il poco di buono sei tu, è lui, siamo tutti, sono io, siamo tutti quanti. Dice, ma stiamo scherzando? Prima che lui lasciasse questa, tu ti sei fatta ai cazzi tuoi, avevi i tuoi momenti e quindi devi giustificare i tuoi momenti nei confronti di una persona che al tempo non meritava giustificazioni. No, questo è sbagliatissimo. Quindi lui non merita giustificazioni ed è una persona incerta e l'hai scoperto subito, quindi ben vega. Però andiamo avanti, non ho letto il resto, quindi vediamo cosa ci scrive. Dice, io non posso accontentarmi un'amicizia e non sto più cercando lui, mi sono rimasta malissimo perché sono stato per un mese accanto a lui, ascoltare i suoi problemi, è sbagliato, i suoi sfoghi senza doppi fini, non è vero che non hai doppi fini, è sbagliato due volte. L'ho fatto ridere tantissimo ed è stato proprio questo che l'ha colpito di me, è vero, questo per esempio piace anche a me. E non accetto che proprio ora finalmente la libro ha voluto chiudere per una sciocchezza. Ho gli spiegato che con l'amico non c'è stato assolutamente niente, se non questo bacio mi ha rubato senza corrispondenza, ha storto il naso dicendomi che lui non accetterebbe di fidanzarsi di una persona che è stata con l'amico. Beh, questo è un ragionamento che ci sta, però in questo caso specifico, capito, mi viene da storcere a me il naso sinceramente. in relazione a quel bacio è stato uno spintone, non l'ho mai sentito con il ragazzo, non c'erano neanche precedenti. Dici che l'ho perso? Sì, ma in realtà non l'hai mai avuto. Prima di tutto gli esseri umani non li possiedi mai, quindi non possiedi mai nessuno, ok, delle persone che frequenti. Ma in secondo, qual è il problema? Il problema è che tu sei convinta che quest'uomo e questa persona possa essere stato in qualche modo realmente convinto di stare con te, quando in realtà tu sei stato una sorta di semicoagliativo post-rottura. E questo l'avresti scoperto o con il passare del tempo, o comunque con una relazione frivola, o comunque l'hai scoperto quando Tizio si è ritratto sulle sue, perché apparentemente l'avresti, ovviamente saresti stata con uno e poi stata, tra virgolette, perché manco sei stata a letto con un suo amico stretto. Bene, questo cosa ti devi far capire? Ti devi far capire che questa persona non riesce a passare oltre una sorta di soglia di orgoglio, che è quella percepita. Ma l'orgoglio è una scusa, quello che in realtà è reale è lo scarso interesse. Perché ti ripeto, se fossi stata tua al posto suo e avessi avuto un forte interesse nei confronti della persona che frequentavi o che stavi conoscendo, saresti probabilmente passata su una sciocchezza simile. E questo vale per il 99% delle persone. Dubito che lui faccia parte dell'1% perché il suo modo di approcciarsi probabilmente è scarno e scarso, quindi non mi sento di elogiarlo in qualche modo, ma mi sento di quasi decomplimentarlo. Ok? E questo ti dovrebbe far capire che nel tuo caso sei stata pure fortunata che questa persona non è una persona funzionale per te e dovresti essere contenta di averla perso. Qualora tu decidessi di farti avanti e di riconvincere a ritrattare su di te, sappi che nel lungo termine su una fascia razionale io mi aspetterei una persona che ti garantirebbe una relazione poco duratura o comunque poco piacevole. I will be talking to you in the next video. Io vi ringrazio per avermi seguito, ti ringrazio per la tua domanda. Qualsiasi domanda ovviamente me la potete fare su Instagram, rispondo solo su Instagram, inutile mi fate domande da altre parti, questo lo dico per tutti quelli che vedo nei video. Nella descrizione trovate il link per preparare una consulenza con me o ovviamente il link ai miei libri. Ti ricordo di iscriverti al canale, I'll see you in the next.